Buongiorno ragazzi, oggi è giovedì e anche oggi siamo qui con ChipperTV a CrossFit Perugia La settimana è quasi finita quindi finiremo con il bot Inizieremo con 400 metri di corsa oggi, giusto per muoversi un po' Poi ci avremo un turnaround di 10 scapole up in cui dovremo attivare bene le scapole Seguiti da 30 secondi di Hellsit alla sbarra Chi non riesce a stare a 90 gradi può leggermente piegare le ginocchia verso il corpo per facilitare il movimento E in ultimo faremo 12 lunges, sono 3 round Questo ci servirà per arrivare preparati al lavoro di ginnastica che dovremo fare subito dopo In cui ci avremo 10 minuti per costruire 5 ripetizioni con il massimo carico di pull up alla sbarra Il workout del giorno sarà composto da un 21-18-15-12 di Band throw con i dumbbell Bench press con i dumbbell E stone head belly lunges con una stone da 50 kg per l'uomo e 30 kg per la donna Sia il band throw che i bench press andranno fatti per gli advanced head con 30 kg e 22 kg e mezzo Per gli intermediate con 22 kg e 15 kg Per i beginner con 15 kg e 10 kg Quindi forza e buon divertimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti